Al MIBACT un accordo firmato con il sottosegretario Buitoni, un accordo importante sulla semplificazione. Il paesaggio semplifica, questo è il punto. Semplifica sempre e semplifica anche in questo caso. Noi abbiamo dentro le aree vincolate, o per decreto ministeriale o per legge Galasso, zone edificate che si sono edificate nel corso degli anni e che adesso per ottenere un permesso anche per cambiare una semplice finestra, una porta, un terrazzo, un volume tecnico, un piccolo ampliamento devono, come si dice, passare dalla sovrintendenza. Ecco, secondo una certa procedura che dopo l'approvazione del piano del paesaggio potrà andare in porto, non ci sarà più bisogno di passare alla sovrintendenza, basterà il comune. Sono 36 tipologie di intervento che noi semplifichiamo per gli imprenditori e sono davvero tanti che ci chiedevano questo e anche per i comuni che saranno chiamati a definire queste aree. Un risultato importante è che la Regione Toscana apri pista anche in questo.